Cari figli cari miei apostoli dell'amore, miei portatori di verità, vi invito nuovamente e vi raduno attorno a me affinché mi aiutiate, affinché aiutiate tutti i miei figli assetati d'amore e di verità, assetati di mio figlio. Io sono una grazia del Padre Celeste, mandata per aiutarvi a vivere la parola di mio figlio. Amatevi gli uni gli altri. Ho vissuto la vostra vita terrena. So che non è sempre facile ma, se vi amerete gli uni gli altri, pregherete col cuore, raggiungerete le altezze spirituali e vi si aprirà la via verso il paradiso. La vi attendo io, vostra madre, perché io sono là. Siate fedeli a mio figlio ed insegnate agli altri la fedeltà. Sono con voi e vi aiuterò. Vi insegnerò la fede, perché sappiate trasmetterla agli altri nel modo giusto. Vi insegnerò la verità, perché sappiate discernere. Vi insegnerò l'amore, perché sappiate cos'è il vero amore. Figli miei, mio figlio farà in modo di parlare attraverso le vostre parole e le vostre opere. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.